6 cose che bisogna assolutamente sapere sul Samsung Galaxy S6 Completamente rivisto il design Sparisce la cover posteriore rimovibile C'è questo bel pannello in Gorilla Glass 4 Che tiene al suo interno la batteria Completamente integrata Non è più possibile sostituire o rimuovere la batteria Non c'è più neanche lo slot per la microSD C'è soltanto uno slot per la nanoSIM Posto qui sulla parte destra del dispositivo Nuovo design anche per il frontale Con questo tasto che riconosce le impronte digitali E permette di accedere rapidamente alla nuova TouchWiz TouchWiz vista completamente Design completamente rinnovato Novità sotto il profilo estetico Che vanno sulla scia di quelle già viste nel Galaxy Alpha Ma soprattutto novità anche per la gestione dei temi e dell'interfaccia Una novità interessante è questo Smart Manager Un'applicazione che permette di tenere sotto controllo Il consumo della batteria Il consumo della memoria E il consumo dello storage integrato Altre novità del Samsung Galaxy S6 Assolutamente la fotocamera posteriore 16 megapixel Autofocus Gira video in modalità 4K Ma soprattutto fa delle ottime foto in tutte le condizioni di luce Con un autofocus davvero rapidissimo E con due semplici tocchi sul tasto principale Si accede rapidissimamente alla fotocamera Altre novità Ricarica veloce C'è sempre il connettore microSD sul fondo C'è anche integrato tutta la tecnologia che serve alla ricarica wireless Tutti gli standard che ci sono in questo momento in circolazione Ma soprattutto con 10 minuti di ricarica si riesce tranquillamente a recuperare diverse ore di utilizzo del dispositivo Altra novità Il processore Il processore è una novità È un Exynos 7420 Un processore sviluppato dalla stessa Samsung Che sviluppa anche la RAM E il chip allo stato solido Che serve per lo storage Il risultato è che si tratta di un prodotto velocissimo Con delle prestazioni eccellenti Sia per quanto riguarda l'utilizzo di due video in tutti i giorni Sia per i giochi che per i filmati E per ogni altro utilizzo che si possa fare di questo tipo di apparecchi Il display è un Super AMOLED Da 5,1 pollici di diagonale Risoluzione QHD Quindi 2560x1440 Davvero nitidissimo Davvero bellissimo E un piacere da utilizzare Abbiamo detto un po' tutto di questo dispositivo Vogliamo mostrare magari qualche foto scattata Con la fotocamera posteriore Che abbiamo detto essere davvero molto interessante Diamo per esempio un'occhiata a una fotografia macro Guardate che risoluzione Si vedono molto bene sullo schermo del dispositivo Si vedono molto bene anche sullo schermo del computer Quindi assolutamente ottime foto Anche da distribuire tramite social Non mancano poi gli scatti realizzati alla sera Questo è uno scatto realizzato Semplicemente facendo due tocchi sulla fotocamera Sul pulsante principale per accedere alla fotocamera Questo è il risultato Li vedete tutti abbinati alla nostra recensione su telefonino.net Quindi veniteci a visitare Per avere tutte le informazioni e tutti i dettagli Sul nuovo Samsung Galaxy S6 Grazie a tutti i miei